Ma, dove? Là? Ma, se ne va? No, lascialo, lo ritroveremo. Ragazzi, state attenti, quei due hanno l'aria di essere dei professionisti. No, c'è. Aspetta. Cominciamo a lavorarceli noi. Comincio io. Cominciamo a lavorare. 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 Cugino Valk, perché... perché lo hai fatto? Non c'era rimasto altro mezzo La colpa è tutta di Jane Certo, è lui, è Jane Che arrivando qui in pochi giorni ha rovinato tutti i miei piani Lui è stato Ma... ma... che dici? Se ci ha difeso, ti sbagli Sei l'errore Il mio errore è stato di non uccidervi prima Ma non l'hai ancora capito Se Lau si fosse tolta di mezzo sarei io ora il capo del traffico della droga in Europa Ci sarei ancora riuscito Se Jane fosse andato via, per questo gli ho mandato quel falso telegramma Era la mia ultima speranza di spuntarla E adesso quelli della banda mi uccideranno Sono convinti che sia stato io a farlo venire qui per fregarli Perché sono io il capo Il vero capo di tutto Io sono il capo, capisci? Io sono il capo Io... Io sono il capo di tutto